Oggi ci troviamo presso i nostri studi e andremo ad intervistare il dottor Andrea Cocci, specialista in urologia, per parlare della terapia rigenerativa per la disfunzione erettile. Per disfunzione erettile si intende l'impossibilità a raggiungere o a mantenere l'erezione. Naturalmente il motivo per cui questo avviene può essere per motivi ormonali, per motivi vascolari e anche per motivi ovviamente psicosomatici. Prendendo da parte l'aspetto psicosomatico e concentrandosi sul patologico, la terapia sarà legata quindi alla diagnosi che noi faremo al paziente. La terapia per la disfunzione erettile è legata ovviamente alla diagnosi e se intendiamo le terapie di più vecchia data intendiamo le tipiche compresse chiamate inibitori delle fosfo-alfa di esterasi in cui semplicemente si davano delle compresse per ottenere un'erezione che era farmacoindotta. Ad oggi la medicina sta andando avanti portando il paziente a guarire dalla disfunzione erettile invece che a trattarla come una malattia cronica. Per terapie rigenerative si intende appunto terapie che vanno a riparare il tessuto malato del pene, in particolare quello vascolare. Noi urologi, andrologi abbiamo copiato quello che fanno ortopedici con le cartilagini e i chirurghi plastici per quanto riguarda il tessuto cicatriziale della pelle. Abbiamo sfruttato i loro concetti e li abbiamo adattati alle nostre esigenze. I due tipi di terapie che noi utilizziamo sono le cosiddette PRP o plasma ricco di piastrine che è un derivato ematico, quindi un derivato dal sangue del paziente che viene centrifugato, viene estrapolato il plasma, quello che ci serve, che sono una sorta di cellula staminale del paziente stesso che iniettato all'interno del pene provoca una rigenerazione del tessuto vascolare del paziente stesso. L'altro tipo di terapia che abbiamo rubato per così dire agli ortopedici sono le onde d'urto a bassa intensità o SVT. Sono delle terapie a base di onde che vengono date al paziente tramite un manipolo, una sorta di telecomando che viene appoggiato al pene del paziente e questa vibrazione va a produrre quella che viene chiamata neoangiogenesi, vale a dire si ristabilisce il tessuto vascolare del paziente, in particolare quello capillare, quindi arterioso, e con alcune sedute ripetute per circa 6-8 settimane di fila si va a rigenerare quel tessuto vascolare che era malato andando a fare realmente guarire il paziente dalla disfunzione erettile per cui soffre. Le PRP si derivano dal sangue del paziente, quindi il paziente dovrà venire nel nostro studio, dovrà essere fatto un normale prelievo del sangue tramite provetta e un biologo con l'assistenza di un ematologo andrà a centrifugare il sangue del paziente estrapolandone la parte del plasma. Questo plasma sarà inserito in una siringa che verrà data all'urologo o andrologo e che la inietterà nel pene del paziente, nei corpi cavernosi, vale a dire in quelle strutture che sono malate, che sono quelle che poi dovranno dare l'erezione e il paziente nelle successive settimane sperimenterà questo beneficio nella rigenerazione tessutale e quindi in erezioni migliori. Visita il sito e iscriviti ai nostri canali e tu, sei up?